Musica Francesco Bessire 3 pari con il Tennis Club e Crema a te la sintesi della giornata niente, oggi ho giocato molto bene il mio singolo ho vinto 6-0-6-2 un avversario comunque, un buon avversario e niente, poi con Gianmarco abbiamo portato a casa il doppio un po' a fatica il primo set poi dopo ci siamo sciolti un pochettino era da un anno che non giocavamo insieme e niente, contenti per il pareggio anche se Zekic aveva le opportunità aveva avuto un'opportunità per mandarci sul 3-1 dopo i singoli e quindi sarebbe stata una vittoria per noi più che un pareggio però va bene anche così, si accetta tutto Con Ungur e Golubev sono squadroni il Tennis Club e Crema, eh? Sì, sono una buona squadra perché comunque da 3-4 hanno dei buoni vivai e Golubev e Ungur hanno un'esperienza che comunque di gioco molto alta sono stati 1-30 e l'altro primi 100 quindi per molti anni soprattutto Golubev oggi ha fatto vedere grandissime cose quindi è contata anche soprattutto la loro esperienza in campo Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.